La nostra storia come ristorante agrituristico parte da qui, da questo orto, i cui prodotti danno piatti genuini e innovativi al tempo stesso. Toscana Fair è frutto dell'amore per la terra e per la buona cucina. Usiamo solo produzioni agricole nel territorio toscano, selezionate e scelte per voi. Pasta fatta in casa, carni selezionate, verdure fresche e una cantina con più di 100 etichette. Col variare delle stagioni varia anche il nostro menù, che esalta i prodotti dell'orto che la natura offre in questo momento. Vi aspettiamo tutti i giorni, sia a pranzo che a cena, a Toscana Fair, dove la buona cucina sposa i prodotti genuini.